buongiorno 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 ciao ragazzi benone voi benissimo 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 tutto bene tutto bene meraviglio perché le prime volte era sempre un bordello allucinante invece adesso va tutto al primo colpo non riesco a capire a furia di farlo a furia di ricevere messaggi in privato che figura da merda ma non è vero ma non è vero questo è il classico esempio che piano piano quando le cose si fanno e si imparano per forza anche se sei decoccio come si dice come come me poi dicono che maturare le scuole matureremo anche noi eh certo anche perché se aspettiamo ancora un po' io marcisco direttamente passo dall'essere acerbo va bene adesso bene dai allora allora raga perché stiamo stiamo cercando di fare invitare i nostri amici e quindi condividere questa bellissima esperienza con alcune persone sì anche perché oggi volevamo parlare di una cosa molto importante che ci sarà mercoledì quindi domani domani esatto domani sera all'ora e ventuno e trenta e siamo anche molto orgogliosi di poterlo raccontare perché intanto non è una cosa scontata non è una cosa che viene fatta di consuetudine e quindi è già comunque qualcosa di straordinario ma è qualcosa di straordinario al quale tutti possono aderire grazie al nostro team che noi ricordiamo sempre e ci fa sempre tanto piacere anche dire chi è il nostro team team pressure che sforna ehm professionisti da un anno all'altro in una maniera incredibile anche qui bisogna dargli assolutamente merito di questo perché se non ci fossero stati i cinque sei adesso forse mi sfugge il numero dei fondatori probabilmente nemmeno noi saremmo qui e non non avremmo neanche avuto la possibilità di metterci in gioco tutto questo per dire che eh sicuramente noi siamo anche un gruppo di persone molto grate a questi ragazzi grati a questi ragazzi perché veramente ci stanno insegnando non solo un mestiere un lavoro a tutti gli effetti ma anche di poter crescere sotto ogni punto di vista e eh a qualsiasi livello noi ci troviamo facendo appunto delle formazioni e eh qualcuno potrebbe anche dire sì vabbè però voi fate parte di quel team e quindi è normale che voi avete queste formazioni eh gratuitamente no intanto non è normale perché se vi informate un pochino vi renderete conto che in altri team e in altre aziende le formazioni sono a pagamento e questa è una cosa che non diciamo noi veramente è un'informazione alla portata di tutti e in più eh la grande opportunità e la grande gratitudine che noi abbiamo è perché queste formazioni di tanto in tanto vengono aperte al pubblico viene data la possibilità a chiunque e questo credo che abbia del dello straordinario mh perché poter veramente aderire ad un evento del genere nel quale captare prendere rubare anche nel senso buono della parola delle info super utili che poi adesso lascio la parola a qualcuno che sicuramente è anche più bravo di me in materia rispetto a quelli che saranno gli argomenti di domani sera ehm ci dà la possibilità e dà la possibilità a chiunque di poter estrapolare e applicare nella propria vita quindi non è necessario essere parte di questo team è necessario avere tanta curiosità e avere la volontà ehm di fare dei passi verso un cambiamento che sta avvenendo anzi in realtà è già avvenuto però a noi piace un po' raccontarcela no? Ci piace dire che è sempre nel futuro quindi noi abbiamo tutto il tempo che ci serve per il tempo ce l'abbiamo questo è è una cosa assodata ognuno può decidere per sé in qualsiasi momento della propria vita e non è mai tardi perché se se ti si è illuminata la lampadina e ti sei tu reso conto che ora di fare un cambiamento evidentemente è il momento giusto è capitato nel momento in cui potevi apprezzare quel determinato cambiamento quindi il tempo ce l'abbiamo eh non abbiamo sempre questa opportunità perché perché semplicemente eh i nostri professionisti i nostri grandi leader che lo mettono a disposizione ne fanno un ogni tanto non sono neanche sempre gli stessi sono eventi diversi questo è molto particolare è molto interessante perché tratta due argomenti eh che probabilmente io allora io eh come esperienza personale a me non è mai capitato di ascoltarli se non grazie a questi ragazzi quindi eh non so se a qualcun altro è capitato se voi ne sapete qualcosa io sono proprio ignorante in merito non ne ho mai sentito parlare poi non sono neanche una persona di numeri quindi per me è veramente un'unione di due mondi eh anzi tre perché il terzo è il mio che devo unire agli altri due e quindi insomma sono molto grata e volevo volevo far sì che magari qualcuno di voi potesse potesse spiegare quali sono questi due mondi quali sono in linea di massimo gli argomenti per capire poi cosa ascolterete domani sera ma molto semplicemente l'unione dei due mondi unisce quello che è il il benessere della persona con quello che può essere il benessere economico diciamo così detto a grandi linee ovviamente l'unico modo per capire bene di che cosa si farà domani è prendere in mano il telefono mandare un messaggio a uno di noi che ci vedete collegati per ricevere il link per per poter accedere perché vi chiediamo di contattarci e chiedere il link perché ovviamente dobbiamo tenere traccia delle persone che si collegheranno anche perché è una zoom gratuita sì ma anche dei posti limitati quindi come sempre vengono premiate le persone che sono più intraprendenti che hanno voglia di uscire un pochettino dai loro schemi dalla loro routine dalla loro dal loro tram tram quotidiano hai detto bene tu veronica prima parlavi del tempo tutti abbiamo lo stesso tempo a disposizione dipende da come lo vogliamo investire da cosa vogliamo tirare fuori da questo tempo che abbiamo possiamo impiegarlo per guardare la televisione possiamo impiegarlo per guardare per per guardare le altre persone che hanno successo oppure possiamo decidere di impiegare questo tempo per un arricchimento personale che ci potrebbe portare ad avere un successo personale quindi cosa significa significa decidere di scendere in campo decidere di iniziare a lavorare a lottare per qualcosa di nostro ed è un po quello che è successo con con big family no grazie alle persone che fanno parte del board del team pressure che è il nostro team team guida noi ci siamo parte del team pressure abbiamo capito che se volevamo qualcosa in più se volevamo realizzare qualcosa di nostro di personale sentirci appagati anche a livello personale sentirci realizzati poter misurare giorno per giorno la nostra crescita abbiamo dovuto mettere in pratica quello che è l'insegnamento principale che ci viene sempre scritto dai nostri libri mettiti in gioco non preoccuparti del giudizio degli altri male che ti vada hai fatto un per un passo verso il traguardo che ti sei prefissato altra cosa importante prefissarsi dei traguardi imparare a pensare ai nostri sogni ma non sogni come si può non so se hai quelle cose assurde tante volte uno pensa a un sogno a qualcosa di irrealizzabile invece ci sono tantissimi sogni che possono essere realizzati sono lì alla nostra portata dobbiamo solo aver voglia di muoverci in quella direzione ecco domani sera sarà uno di questi eventi sarà aperto a tutte le persone sia persone che fanno network sia persone che non fanno netto sarà aperto a tutti i networker è gratuito ecco forse questo è quello che frena alcune persone se è gratuito c'è qualcosa di strano sotto no il team pressure più di una volta dimostrato che quando offre qualcosa di gratuito è perché è convinto e consapevole ha la sicurezza di poter donare qualcosa alle persone che potrebbe cambiargli la vita ma non stravolgerla magari sentire qualcosa di diverso che può aprire la mente in una maniera completamente diversa oppure far rendere conto le persone che esiste anche un altro mondo che ci sono altre realtà che ci sono altre possibilità ecco domani sera sarà una di queste cose magari avere il coraggio di collegarvi perché qui si tratta solo di avere coraggio che poi non è che ci vuole chissà quale coraggio per chiedere scusa potreste mandarmi il link ecco avere questo questo attimo di coraggio potrebbe essere qualcosa che vi apre le porte verso verso un nuovo mondo tant'è vero che l'evento di domani è due mondi che vengono a contatto io volevo aggiungere una cosa sulla su quello che hai detto tu allora proprio sul fatto di dei sogni no allora noi cambiassimo la parola e dicessimo obiettivi scopi nella vita di ogni giorno ognuno di noi ha uno scopo un obiettivo da raggiungere vuoi per la famiglia vuoi per uno stato economico un po più tranquillo il fatto di arrivare tranquillamente a fine mese il fatto di poter fare una vacanza in più il fatto di potersi regalare la macchina della vita perché poi ci sono tante persone che hanno degli obiettivi diversi non è detto che uno debba diventare milionario per forza e quant'altro posso interrompere solo un secondo lui mi interrompe sempre poi non ricordo più quello che devo dire una certa età parlare di sogni però tante volte dobbiamo guardare anche nel piccolo quello che è successo noi quest'anno quattro mesi di vacanza cioè noi ci siamo potuti permettere di stare al mare quattro mesi e lavorare dal mare perché non è tanto il diciamo mi posso spostare il lavoro al mare o lavoro a casa ma ci sono comunque delle spese spostandoci da un posto all'altro dell'italia quindi in questo caso il fatto di poterti dare comunque la visione di poter fare una cosa del genere poterti regalare una vista sul mare mentre lavori è impagabile ci sono persone che veramente questa fortuna magari non riescono a averla o ce l'hanno due settimane all'anno e però è proprio grazie a una visione diversa che ci viene data quindi la possibilità di farcela la possibilità di fare determinate cose e su questo volevo dire appunto che spesso noi guardiamo le cose in maniera molto più ampia però se le riduciamo pensiamo semplicemente vi faccio questo esempio ci sono persone che hanno la possibilità il colpo di culo chiamiamolo com'è realmente di vincere una schedina di vincere un gratta e vinci di avere un lascito perché qualcuno gli lascia una donazione piuttosto che un'eredità spesso cosa succede che di questi soldi molte persone non hanno la fortuna di vedersi rimanere attaccato nulla questo perché perché se non si ha un istruzione finanziaria purtroppo questi soldi si perdono in stupidaggini in spese fatte non pensate come si deve a investimenti sbagliati insomma tante tante situazioni quindi il fatto di riuscire ad avere un minimo una base per quanto riguarda questo tipo di aspetto il come investire come spendere come il come risparmiare partiamo sempre tutto da lì se io guadagno 100 spendo 110 e non arrivo da nessuna parte se io invece so come spendere una parte come investirne un'altra io riuscirò a crearmi delle rendite è una cosa importantissima questa perché guardate che c'è tanta gente che ha veramente ricevuto dei soldi e non li ha saputi gestire e dopo ti ritrovi nella stessa condizione di prima perché se non sai come maneggiare il denaro scappa o peggio a volte fortuna del genere non tornano quindi bisogna saper amministrare gestire il denaro più che rendite passive la definizione giusta sono delle delle entrate automatiche viene solo dietro un lavoro frutto di impegno noi ci impegniamo tante volte per ci impegniamo tutti i giorni tante volte nel lavoro tradizionale per lavorare minimo 42 anni le statistiche dicono che le persone andranno in pensione a 75 a 75 anni qualcuno ha detto ah ma questo è terrorismo sociale no è la realtà dei fatti perché se un ragazzo non trova lavoro prima di 30 anni e deve fare 45 anni di lavoro per andare in pensione si arriva a 75 anni che cosa ne faccio per la pensione a 75 anni ragazzi? se ci arriva soprattutto qui si entra in un mondo dove non ci regala niente nessuno è un lavoro a tutti gli effetti noi dobbiamo imparare a lavorare dobbiamo imparare un metodo e noi grazie al nostro team abbiamo la fortuna di avere addirittura un manuale che ci insegna come lavorare e per quanto ci metto? dipende da quanto tempo voglio realizzare i miei sogni l'unica cosa che non possiamo garantire noi è i guadagni noi possiamo garantire un metodo possiamo garantire l'assistenza possiamo garantire la formazione gratuita e i guadagni non te li posso garantire perché dipende solo ed esclusivamente dal tuo impegno e dal tuo obiettivo quello che possiamo dire però è che se tu ti impegni nell'arco di 3-5 anni arriverai ad avere un bello stipendio una libertà finanziaria una libertà finanziaria poter decidere tu da quale posto d'Italia o d'Europa lavorare perché sempre di lavoro si tratta e penso che una libertà più grande di questa non ci possa noi l'abbiamo sperimentato nel nostro piccolo quest'anno che abbiamo avuto la possibilità di lavorare 4 mesi dal mare diciamo che la libertà è la libertà della gestione del proprio tempo poi uno ci fa quello che vuole quel tempo che praticamente riesce a liberarsi che è il bene per il prezioso per gli anni il tempo non torna dobbiamo sapercelo amministrare e godere al meglio possibile e proprio per tutti questi vantaggi che a noi piace condividere quello che facciamo con tutti e vorremmo veramente riuscire anche con questa live a raggiungere più persone possibile per fargli vedere cosa realmente si può fare con il nostro lavoro, con il nostro impegno e con il team che abbiamo quindi questo è un evento veramente a cui noi siamo grati di partecipare ma che vorremmo veramente far partecipare al mondo intero perché oggigiorno tante persone ancora non credono nel network perché purtroppo tanti agente, tanti team non l'hanno trattato come doveva essere non l'hanno trattato come un vero lavoro e quindi molte persone sono uscite deluse pensando che non sia un lavoro, pensando che non è fattibile e pensando che veramente sia una piramide e nessuno riesce a arrivare in cima poi piramide, se vogliamo parlare di piramide, tutto è una piramide il lavoro tradizionale più piramide di così non esiste perché veramente lì chi sta in cima guadagna e chi sta in fondo proprio non è considerato niente e poi in realtà il network marketing è una piramide al contrario quindi tu parti da piccolo perché sei inesperto ma riesci a salire e la piramide al contrario ti fa presupporre che in alto c'è spazio mentre nel lavoro tradizionale è proprio la piramide capovolta quindi la classica, quella che tutti erroneamente pensano sia attribuibile al network marketing è proprio l'opposto ma quello che volevo dire è impressionante adesso mentre Alessandra parlava stavo guardando quanti gruppi di cerca offre lavoro ci sono nei vari social quante iscrizioni in questi gruppi e quante poche persone che fanno azione cioè che invece che lasciare a metà le proprie decisioni la propria situazione di difficoltà riescono poi ad arrivare in fondo questo per me è anche per un discorso di celerità non so se si dice così insomma perché il mondo va in maniera celere si va veloci no? allora piuttosto si risponde in 50.000 a un annuncio con scritto ti faccio guadagnare 100 euro domani vedi una sfilza di commenti incredibili che poi alla fine si sa e va da sé che probabilmente non era la promessa fatta e invece pochissime persone che si interessano veramente perché quello che io credo è che Lucia è giusto quello che hai detto è vero che tanti hanno magari preso delle notizie sbagliate rispetto al network però è vero anche che molti non ci provano e per me è sbagliato perché io credo che se uno si prepara per andare a fare una maratona non lo fa così lo fa per aspirare comunque a vincere quindi il mio consiglio dal mio che poi è anche l'esperienza che ho avuto anche io inizialmente non ero diciamo non riuscivo a capire ed ero molto diffidente è non lasciate le cose a metà cioè se qualcosa vi incuriosisce vi interessa dal momento in cui sentite che volete saperne ma allo stesso tempo non volete investire che puoi investire parliamone in questo caso è gratuito l'evento quindi è veramente un investimento solo su di voi solo sul vostro tempo solo su quello che dedicate fatelo non abbiate vergogna perché dove potete capire e ragionare con la vostra testa probabilmente è il luogo che vi dà la possibilità poi di avere tutta la possibilità di scegliere cioè non ci sarà nessuno che ti dirà o è così o è A o è B o è nero o è bianco sei tu che vedrai tutte le varie sfumature che ti vengono regalate e poi deciderai se è la professione giusta il progetto giusto perché parliamo di professione ma poi all'interno c'è tantissima altra roba è lo stesso progetto Big Family è veramente l'esempio eclatante di tutto ciò quindi chiedere non lasciare le cose in età perché non serve a niente riempire questi gruppi di cerco offro e poi alla fine state lì dentro a fare cosa cioè non serve realmente a niente sfruttateli questi gruppi sfruttate il fatto che noi siamo in live che abbiamo condiviso in un sacco di gruppi ascoltateci veniteci a vedere anche sul nostro gruppo Big Family che poi è lì che circolano tutte le varie informazioni anche del Team Pressure se vi fa piacere andate addirittura alla fonte origine quindi andate in We Are Back si chiama scritto in inglese poi ve lo mettiamo sotto nei commenti non state lì a fare numero non serve a niente non cambierà le vostre vite non arriverà il lavoro magico che vi cadrà dal cielo questa cosa questa roba ragazzi non esiste vi dovete fare il mazzo anche a cercare informarvi perché in giro c'è un sacco di roba e anche un sacco di cose purtroppo che non sono giuste non sarebbero giuste ma ci sono perché è un po' come andare in mezzo alla strada quando sei in mezzo quando sei nei social l'importante è imparare a scegliere imparare a capire e dove se non ad un evento dove ti viene detto in maniera totalmente imparziale e ti vengono trattati degli argomenti come educazione finanziaria che secondo me andrebbe insegnata anche a scuola infatti io volevo arrivare lì mi sono un attimo persa nel discorso ma volevo proprio dire questo di essere curiosi veramente di andare cercare guardare di non farti infinocchiare se così si può dire dai racconti di quello o dell'altra persona che dice o meno di averci provato di essere proprio curiosi e di buttarsi in queste cose perché nella vita se non osi non arriverai mai a niente e visto tutto quello che succede intorno è giusto anche farsi una cultura una cultura finanziaria una cultura su tutto quello che sta succedendo noi vi diamo la possibilità con questo evento ma anche con tantissimi altri eventi entrando nei nostri gruppi di vedere qual è un'opportunità che oggi penso sia una delle migliori al mondo quindi venite chiedete e siate curiosi veramente perché può cambiare la vita a tante persone può aprire gli occhi sul mondo su quello che sono le opportunità di oggi poi quando è gratis e non è perché come dicevi te una cosa così perché grazie non gli si deve dare valore no è gratis perché noi abbiamo dei leader che veramente vogliono far conoscere al mondo questa opportunità ecco come diceva Veronica prima di non fare le cose a metà per le persone che verranno a vedere poi questo evento non lasciate le cose a metà cosa intendo dire una volta che avete visto questo evento oppure andate a guardare una presentazione di che cos'è il nostro progetto una presentazione di cos'è il progetto del team nel quale facciamo parte che è il team pressure contattateci durante la durante la presentazione del progetto di domani o le presentazioni dei nostri progetti segnatevi tutte le domande segnatevi tutti i dubbi che vi vengono e approfittatene i professionisti che sono a vostra disposizione per rispondere ai vostri dubbi alle vostre domande questo non significa che per forza se ci contattate adesso se io ricontatto questi per forza devo iniziare a lavorare con loro no non è detto perché magari non ci siamo simpatici ci stiamo sulle scatole e non potremmo mai lavorare assieme ma non è neanche detto che voi facciate al caso nostro in questa attività che dovete anche voi misurare noi ma noi misurare voi perché comunque perché se no poi succede quello che ha detto Lucia prima che la gente inizia a fare il network marketing si pensava o pensa che sia chissà che cosa e poi resta deluso e dice il network marketing non funziona quindi queste chiacchierate servono per capire se facciamo ognuno di noi facciamo il caso della persona che abbiamo di fronte e soprattutto non solo anche i famosi gruppi o vabbè chiamiamole sette come insomma molte persone definiscono il network sì Matti poi ti faccio parlare hai ragione abbiamo riportato agli esordi stavolta non può parlare più no dicevo semplicemente che in questo caso hai la possibilità di sceglierlo il gruppo perché poi fondamentalmente se tu ci pensi nei gruppi ci sei sempre stato a scuola ti hanno messo nei gruppi perché ti hanno messo in una classe al lavoro ti hanno messo in un gruppo perché magari lavori in un settore preciso determinato cioè fai sempre parte di un gruppo anche quando scegli la cerchia la cerchia dei tuoi amici fai parte di un gruppo che ti sono capitati in famiglia fai parte di un gruppo anche in quel caso vai a capire se te lo sei scelto o ci è capitato però insomma questo per dire che il fatto che noi siamo qui il fatto che noi apriamo le porte il team apre le porte anche per farti scegliere a quale gruppo vuoi appartenere e quindi se fa il caso tuo se noi facciamo il caso tuo e se tu fai il caso nostro come dicevano prima Vito e Alessandra Matti vai ti fa ridere con quella mano alzata adesso la basso la basso aspetta basso la mano quello che penso io è che puoi fare due scelte una sei curioso quindi scrivi a qualcuno che ti giri il link per partecipare l'altra è ti sei rotto le balle di lavorare per i sogni di qualcun altro e vuoi prendere in mano i tuoi quindi stai cercando una via che qualsiasi che non sia per forza network marketing che però ti dia insegnamento e quindi se vuoi prendere la tua via sia che tu voglia aprire un'azienda fisica un'azienda online tu voglia iniziare a fare network marketing vuoi andare a fare dropshipping penso che la cosa che racchiude tutto sia l'educazione finanziaria e quindi noi ti diamo l'opportunità di vedere un corso di formazione gratuito dove non ti verranno chiesti soldi ti verranno chiesti il nome e un tipo il numero di telefono o un email per girarti l'ID e basta quindi che tu voglia soltanto imparare a risparmiare imparare a investire fare qualcosa di tuo contattaci che noi ti forniamo l'ID e ti facciamo partecipare gratuitamente a questo corso di formazione poi se tu vorrai iniziare un percorso in network marketing noi ci siamo e siamo a disposizione anche a rispondere a tutte le domande se invece non vorrai iniziare il tuo percorso in network marketing non vorrai aprire una tua una tua azienda un tuo sito robe varie può essere solo a livello informativo e quindi io soltanto per il fatto che sia gratuito non butterei via questa opportunità soprattutto al massimo ti sei fatta una cultura su qualcosa che non conoscevi o conoscevi poco noi per esperienza proprio a livello familiare abbiamo due figli che hanno iniziato a fare network marketing con noi e gli si è aperto un altro mondo nonostante continuino ad essere all'interno del network marketing ma grazie al network marketing hanno aperto la loro mente verso altre prospettive loro dicono sempre noi ringraziamo il network marketing che ci ha aperto la mente in maniera completamente diversa poi volevo dire su un'ultima cosa poi tagliamo perché giustamente non vogliamo annoiare nessuno e andiamo sempre un pochino lunghi giusto per farvi vedere che il nostro team è un team stra eccezionale e dà la possibilità alle persone di ogni tanto partecipare a degli eventi del genere chi volesse andare a vedere a ritroso è stato fatto un evento un po' di tempo fa sia con Eric Ward e diciamo che chi fa network lo conosce benissimo e sono state invitate praticamente qualcosa come oltre 500 persone per chi vuole andare a vedere quanto viene a costare diciamo un incontro di tre ore con Eric Ward può andare a vedere in internet quanto si fa pagare ok questo è stato messo a disposizione di tantissime persone anche di altri network semplicemente per il gusto di condividere delle esperienze fantastiche quindi anche quella che ci sarà domani sera ha un costo perché ci sono dei professionisti che comunque parleranno ma viene offerta alle persone che hanno la voglia di capire qualcosa in più di questo attorno e mi taccio bene stiamo dentro la mezz'ora giusti oggi giuro se riusciamo a chiudere in trenta secondi siamo dentro trenta secondi per dire che stasera ci siamo alle ventidue sulla piattaforma twitch piattaforma nuova per big family ovviamente twitch esiste da anni non so quanti però esiste da diverso tempo noi siamo approdati circa tre settimane fa ci piace tantissimo questa piattaforma perché è molto frittante molto giovanile ci sono persone di tutte l'età taglio veniteci a trovare ore ventidue se non sapete non avete idea di come si scarica non vi preoccupate ci siamo noi vedete i nostri nomi scritti qui ci scrivete in privato o da big family direttamente e vi seguiamo passo passo così potete scaricare e collegarvi stasera ciao a tutti se nessuno deve dire nient'altro no li sentiamo noi ciao 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 ciao